Una nuova rotta per Sangritana che con il contratto sottoscritto a Francoforte con Cargo Beamer può effettuare un collegamento ferroviario intermodale tra Domodossola e Bari con la possibilità di estendere la rotta fino ai porti del Mediterraneo e nel nord-ovest europeo. Una Green Road, ha sottolineato il presidente Alberto Amoroso, con un'efficace ponte intermodale. Continua la strategia per migliorare la logistica in Abruzzo, Enrico Adolfi che è il direttore della divisione ferroviaria di Tua. Senza dubbio, Sangritana è un'azienda di eccellenza abruzzese e non solo abruzzese. Si occupa prevalentemente di Cargo con grande competenza e grande professionalità. È un'azienda storica che raccoglie il redaggio del trasporto pubblico locale in Abruzzo. Oggi si è trasformata in un'SPA, perciò un'azienda a mercato. E come possiamo vedere dai vari partner che si stanno accodando per diventare clienti di Sangritana, da qui possiamo vincere che Sangritana è sicuramente una realtà che oggi deve essere considerata e soprattutto potenziata.